venerdì primo giugno 2018 benvenuti a un appuntamento con good morning milano sui 12 31 minuti in questo istante sempre qui in diretta su milano news per raccontarvi milano città metropolitana i protagonisti di questa città oggi parliamo d'arte e come quasi di consueto ogni volta che si parla di arte non possiamo che dare il benvenuto alla bellissima e bravissima eva amos buongiorno eva buongiorno benvenuta grazie mille di essere qui con noi diamo benvenuto anche all'altro ospite di oggi luca magnante illustratore conosciuto anche come sette e mezzo ciao benvenuto grazie mille di essere qui con noi oggi perché è qui luca luca è qui perché sarà uno degli artisti che saranno in scena da settimana prossima in una nuova rivisitazione in realtà di una mostra già fatta lo scorso anno ma con tutti i nuovi artisti make art not work fatta da eva amos eva cosa ci puoi dire al rapporto di questo make art not work allora come avevi detto prima tu il progetto è un progetto espositivo è già stato fatto un anno fa in un altro spazio invece abbiamo adesso la casa di art space che si chiama arse e facciamo con stessa data esattamente 8 giugno stesso progetto però abbiamo i nomi i nomi nuovi gli artisti giovani emergenti interessanti sempre internazionale perché art space ama promuovere le culture diverse fare lo scambio culturale perché l'argomento che abbiamo scelto make art not work è abbastanza forte e quindi ci vogliono le persone che provengono da altri paesi da diversi paesi giusto appunto dicevi un progetto giamato sul suono ma tutto nuovo meglio abbiamo la qualità e la serietà di sempre come si può dire in questi casi ma tutti nuovi artisti tutte nuove opere d'arte mai viste assolutamente sì in tue esposizioni per un totale di quanti artisti sono 15 artisti 15 artisti in più abbiamo oggi come ospite luca magnante che espone per me un grande onore di promuovere gli artisti nuovi emergenti per esempio luca espone per la prima volta nella sua vita per me una cosa veramente molto bella e lo chiediamo appunto luca per la prima volta esponi anche perché ti sei avvicinato diciamo abbastanza poco tempo fa al mondo dell'arte giusto comunque da un annetto che lavoro con tecniche digitali quindi tavoletta grafica computer in realtà più o meno disegno da quando sono piccino poi prima disegnavi a mano proprio disegnava ma adesso comunque disegno a mano solo che c'è un trasporto poi in digitale e continuo a lavorare con tele comunque oggetti manuali che secondo me rimane molto importante qual è quel momento in cui però hai detto va bene allora un conto a disegnare tenermi le cose per me un conto dire no faccio il salto e espongo divento l'artista realtà per punto vero e proprio quando ho capito che la scuola di fumetto costava un po troppo quindi ho detto beh proviamo con i social comunque ci viene data la possibilità di condividere diffondere anche intrecciare relazioni perché una cosa bella di instagram qualsiasi altro social la possibilità di stringere relazioni più che chiaramente esporsi anche esponendosi e e quindi a un certo punto ho pensato va bene disegnare va bene disegnare a mano tenerlo per sé però forse anche il caso di cominciare ad uscire un po ecco che tipi che tipo di illustrazione fai qual è il tuo lavoro che tipo di lavoro fai dunque il mio lavoro bene o male tratta di va dalle tematiche sociali quali possono essere il cambiamento climatico oppure i migranti oppure ma anche semplicemente fatti miei quello che mi succede durante la giornata se qualcosa diciamo mi ricordo mi ha particolarmente colpito poi lo disegno certo poi come ho notato tu comunque tocchi sempre gli argomenti molto sociali perché essendo illustratore devi trasmettere i problemi cioè le cose che accapitano attualmente nel mondo abbiamo visto qualche distrazione adesso vedo che danno sta preparando le illustrazioni a far vedere insomma davvero belle interessante effettivamente appunti cito attuali anche con temi spesso sociali riportati ha iniziato in realtà diciamo questa la tua prima esposizione però viene da dire tu dal primo giorno sei l'esposizione perché appunto usando instagram usare social come ha risposto la rete ma dunque la rete ha risposto abbastanza bene abbastanza lentamente comunque anche esporre su instagram diventa una sorta di lavoro bisogna dedicarci tempo comunque investirci e quindi non è non è semplicemente faccio una foto e la metto comunque dietro un disegno c'è un'idea dietro c'è un una realizzazione che comunque almeno una decina di ore e le prende e comunque la cosa bella è che ci sono dei feedback positivi dicevi che tu disegni sa da sempre prima disegna via ma non è sempre trovata grafica però hai deciso di rispondere solo una volta passato alla parte digitale diciamo perché attraverso il digitale che sono stato trovato da eva quindi attraverso il digitale tu fai digital art tramite il canale digitale tutto perfetto si suono tutto perfettamente si comunque è molto più semplice chiaramente esporsi piuttosto che andare in giro a disegnare un muro cosa che comunque ho anche fatto qua milano si in via tortona ci sono degli spazi a disposizione e lì ho disegnato un pezzo per la giornata mondiale della terra e non direi voglia di esporre anche opere fatte a mano diciamo sì diciamo che comunque le cornici di queste opere digitali l'ho fatta ma quindi c'è un qualcosa di sì 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 no ci deve essere una parte manuale per forza altrimenti non si sente l'hanno fatto io si era mi dicevi appunto 15 artisti che erano fatti del mondo che tipi di lavori vedremo a me caso l'arte a vari linguaggi quindi questa volta l'argomento è veramente molto forte sociale e abbiamo voluto di coinvolgere gli artisti non solo quelli che fanno la pittura classica l'olio acrilico ma anche ci sono le installazioni c'è tra l'altro non so se abbiamo già visto la locandina nella locandina abbiamo usato un'opera un'opera una una sorta di installazione di al posto di la lettera o vediamo un cerchio che magari da qui una colonna di spina sembra da qua sì allora ci sono le pistole con con il fio e le rose esatto sì che ha fatto l'artista che si chiama teresa con la monaco che ha partecipato anche alla mostra di da mars che abbiamo fatto a marzo quella famosa mostra di da mars oltre installazione abbiamo la scultura e giustamente digital art anche scultura dice appunto anche la serie cosa anche delle installazioni quanto diventa sempre più complicato per te trovare artisti così vari nel senso che appunto una volta cercare i pittori ed era finita lì invece nel senso che hai cercato alla gare molto ma arrivano così c'è la come 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 ti vengono le cose quando tu appena inizi a pensare ti avvicino nelle cose dici che basta pensare che già un po assolutamente sì e c'è la sono 50 per cento della del lavoro fatto capito c'è la avvicinarsi iniziare a pensare così ti avvicino alle cose quelle giuste diciamo ecco luca invece nel tuo lavoro dove trova l'ispirazione per iniziare quando insomma immagino o la tela è bianca oppure immagino con quello schermo completamente bianco del computer da dove riempire in realtà ci sono dei momenti della giornata in cui a volte mi isolo come potrebbe essere anche questo momento ad esempio è un potrebbe essere una fonte di ispirazione magari con persone cambiate però è una situazione nuova c'è sicuramente una situazione nuova porta qualcosa di nuovo una musica nuova si ispirazione quindi qualcosa da ridisegnare da rivedere da perché io penso a potrebbe andare così oppure sarebbe potuto andare in un altro modo e quindi come fai con le mondi con ispirazione e non è al da portata di mano la tua tavoletta non è compiuta cosa fai no nella testa sì cioè cerco di ricordarlo poi a volte un sacco di cose le dimentico prima avevo un taccuino in cui scrivevo un po tutte le cose adesso se non ho una tavola però in genere una cosa che mi viene anche molto recriminata che mi porto sempre dietro il computer per tavoletta grafica che poi è pesante diciamo che l'avventolo fosse dei tablet un giorno ti aiuterà in questo è il peso dell'arte comunque quindi è normale appunto anche di questo è potuto connotare una caratteristica il peso la caratteristica fisica che dice comunque nonostante siamo al digitale di bit di inesistenza nel senso del virtuale più virtuale che ci sia ci sei tu vuoi sempre riportare la cosa ma dimensione reale materiale assolutamente sulle spalle sul torcicollo che poi viene si sente tutta l'arte quindi sì come vedeva la ricerca così mi ci chiede nel senso che secondo me è necessario comunque anche vederle su instagram piuttosto che stamparle anche su carta di casa dalla stampante è un altro effetto comunque è una bellezza aggiunta finché rimane su instagram certo ha il preso di poter essere condivisa su larga scala però comunque vederla stampata fisicamente un'altra cosa è come andare al museo vedere le opere stessa cosa è un altro esatto incontro su google le vero tutte un contenere al museo dell'elipo esattamente ti viene ispirazione subito io sono andata a bologna l'altro ieri ho visto finalmente pinacoteca perché sono state dieci volte a bologna c'è ma un'altra cosa io ho visto quella l'estati di santa cicilia sull'internet no quando ho visto dal vivo ma nessuna immagine non ti può trasmettere la bellezza del quadro quando lo vedi dal vivo è un'altra cosa assolutamente e cosa ti ha ispirato cosa ti ha ispirato un nuovo quadro su sgarbi noti per il prossimo della denuncia da vittorio sgarbi per stalking quindi lo sai che non puoi infatti c'è un quadro che però tengo per me non farglielo sapere salutiamo il professore sgarbi ma insomma sappiamo che sono fatti la denuncia ormai perché sei veramente no no e sei la pittrice ufficiale ormai icone di sgarbi come come è stato michelangelo di il caravaggio uguale non saprei chi è peggio di tutti quanti voi no nel senso invece va benissimo volevo spiegare questa volta ci sono opere tue esposte allora io ho pensato che non posso mancare all'evento cioè non posso non esporre niente io ho pensato non è ancora confermata l'idea però vabbè forse faccio la l'opera musicale suonerai canterai che magari non sono io la ma il mio amico e canto cantiamo insieme magari ricordiamoci se pensavo che eva è un artista tutto tondo scuola d'arte fin da bambina si è la balla laica immaginate poi questa russia sovietica dove ne ricave basta quindi costretta tutto il giorno a studiare non gli davano a mangiare se non imparava a memoria tutte le canzoni se no vai fuori prendi meno 35 infatti insomma quindi grandi stimatrici poi dell'italia con pupo tutto cotugno e albano insomma questa è la tua formazione artista musicale no 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 ok per fortuna no anzi invece vi invito a venire anzi ricordiamo bene l'otto giugno 8 giugno alle 18 e mezzo giorno alle 7 e mezzo 18 e 30 si spazio arse perfetto via privata visconti bernabò 13 parini covorkin collaborazione zona san sio si è facilissimo arrivati con la metropolitana la cosa bella appunto 18 e 30 fate conto torno alle 18 e 30 poi si inizia si riesce secondo me è una cosa interessante delle mostre di eva e qui non voglio vantarmi neanche io ma ha fatto che spesso ci sono anch'io che facciamo che presentiamo la mostra ma davvero facciamo un giro facciamo vedere le opere gli artisti presenti vi parleranno delle loro opere una cosa che insomma non succede spesso una cosa curiosa una cosa che cerchiamo di fare in modo da avvicinare sempre più gente possibile all'arte e poi insomma c'è sempre risolto un gran finale con altro tipo di arte questa volta la stessa eva si ci metterà in musica molto poi se avrò bella voce alla voce sono dipendono il clima effettivamente un po frega in questo periodo quindi insomma sì c'è una filruso i tuoi lavori luca o hai fatto delle serie diciamo ragione del senso oppure spaziato completamente ormai spazio spazio c'è allora un fil rouge comunque quello della tematica sociale ok quindi se ci deve essere qualcosa di collegato può essere riconducibile a quello comunque mi piace sempre parlare anche un po di me perché altrimenti non sarebbe esporsi trovo che esporsi su internet sia forse più anche interessante quando lo fai parlando di te stesso e con le vignette instagram comunque un mezzo molto valido per fare delle vignette così che ti descrivono quindi spazio in generale spazio tu prima parlavi appunto della scuola del fumetto ma perché il tuo obiettivo sarà quello poi diventare magari un fumettista un giorno oppure ormai hai lasciato quell'idea perché scoperto un altro mondo no diciamo che al momento non ho un obiettivo di preciso ma perché ho capito che tanto meglio arrivare a dei minimi obiettivi quando quanto appunto potrebbe essere prendersi una tavoletta grafica e cominciare direttamente a fare determinate cose determinate illustrazioni che poi portano ad altro quindi come potrebbe essere questa occasione che mi ha concesso eva e mi sento anch'io più libero così non comunque fare fumettista non credo non credo magari anche sì però sono abbastanza libero a qualsiasi tipo di eventualità e qui va a questo punto 15 artisti racconto ci sono dove vengono ancora sottolineare il fatto che sono veramente molto fiera di presentare gli artisti questa volta espongono per la prima volta alla mostra perché a me per fortuna già capitato di lanciare in certo senso le artisti esponendo con art space e poi sono stati diciamo più richiesti sono stati notati da altri critici d'arte i galleristi che per me è una cosa molto positiva vuol dire che sono stata io prima a scoprire l'artista perché sai che molti artisti che ho conosciuto su social mi dicono ma c'è fanno le opere veramente molto interessanti belli che parlano delle cose delle cose molto importanti però sono insicuri di se stessi perché rimancano gli spunti cioè li mancano le persone che lavorano nel settore dell'arte che li possono dare un consiglio giusto non a dire vabbè non ne frega niente mi dai soldi ti spongo a me queste cose non mi interessano mi interessa la persona l'artista la la sua creazione la l'arte che fa che che trasmette cioè questa è la cosa più fondamentale secondo me e quindi appunto allora facciamo così questi nuovi artisti ci sono gli artisti che hanno già collaborato con qualcosa c'è ma molti che abbiamo parlato di alexander sverzut quello che c'è un altro spunto magari lo spero altra volta abbiamo saputo insomma fatto strada adesso questo a questo questo giro non c'è cosa sono degli afezionados si stanno chi è la l'artista alessandro sverzut e mio carissimo amico che ha partecipato quasi a tutte le mostre tutto l'anno non ha perso nessuna mostra tranne tranne quella di sgarbi con la marse e ho chiesto alex ma che è successo che lui fa io sto aprendo la mia galleria insomma è stata foto vi hai fatto fortuna di voto sicuramente tanti auguri infatti ad alex esatto torniamo al nostri artisti abbiamo 15 artisti che abbiamo detto contemporanei emergenti che provengono da diversi paesi esattamente da messico brasila svizzera russia e giustamente italia allora angelo di del vecchio chiara monaco francesca caruso gloria giacomo antonio luca magnante narciso dall'orto rossanna chiappoli tonia buccato viviana perlini e teresa cola monaco maristella paganne flor mora maurizio de marco ma mario sarge blow andrea esabellotto tutto il mondo come sempre rappresentato tutto il mondo presentato da una russa andiamo veramente vedrà ogni continente quasi che cosa ti aspetti da questa seconda edizione di my card not war allora ti domando anche questo potrebbe diventare un appuntamento forse fisso ogni anno certo certo io avevo già pensato infatti lo sai che questa volta hanno pubblicato anche un articolo su my card not war anche sul sito russo abbastanza importante quindi direi che un valore aggiunto che sta prendendo le forze nuove questo progetto allora aspetto che arrivano altri artisti che altre persone incoriosiscono del progetto perché comunque ha un argomento affronta un argomento molto importante e come abbiamo pensato del concetto del progetto prima era gli artisti della guerra come picasso come con la sua guernica come da lì con il suo volto di guerra invece adesso noi chiamiamo gli artisti quelli artisti della pace che appunto parleranno con le loro opere della bellezza della maternità della femminilità di tutte le cose e che parlano della pace che manifestano la pace allora ricordiamo l'appuntamento l'otto giugno alle ore 18 e trenta verso l'art space per nicol working zona san siro comunque trovate tutte le indicazioni su questa diretta in modo da poter contattare anche ma nel caso avete bisogno di sapere qualcosa oppure vogliate magari esporre alle prossime mostre sono mai sempre disponibile so che stanno già preparando un calendario molto interessante c'è qualcosa prima dell'estate poi un calendario molto interessante da settembre in poi abbiamo i nostri i nuovi progetti esattamente le mostre personali che non abbiamo mai fatto praticamente tranne la mia la mostra il 22 gennaio facciamo le mostre personali e il 25 giugno c'è un nuovo appuntamento la mostra personale di un artista calabrese espone per la prima volta nella sua vita e fa subito personale laura vinci però insomma lo da seguire ma sicuramente ci rivedremo prima di il 25 per parlarne luca che ringrazio tantissimo che sto qui con noi da vediamo l'ora di vederci venerdì alla inaugurazione di make a not war così da vedere le tue opere quante opere quante opere due opere esponi e insomma saranno interessate a vedere anche queste famose cornici di cui parlare che fattivano da te quindi è interessante capire davvero questa commissione tra digitale e virtuale che poi diventa tutto completamente reale e insomma anche materico io e ma ti ringrazio come sempre a stare con noi grazie mille ci vediamo venerdì e qualsiasi cosa sai che mi hanno news aperta a darti spazio per qualsiasi cosa tu ti inventi noi siamo sempre contenti di dare spazio iniziative grazie mille davvero entrambi grazie a tutti voi che ci avete seguito ricordo appuntamento come sempre per questa sera alle ore 18 con informazioni di milano o news edizione della sera buon weekend invece per quello che riguarda good morning in milano perché noi ci rivedremo settimana prossima settimana prossima settimana un po strana dal punto di vista del palinsesto ma ne perdiamo poi in settimana man mano che ci rivedremo grazie mille arrivederci a presto